anche nella costruzione della confutazione è necessario seguire il modello arel di cui abbiamo già parlato a proposito dell'argomentazione facciamo un esempio prendiamo la mozione bisognerebbe abbassare a 16 anni l'età per votare lo speaker della squadra pro ha appena affermato di essere a favore della mozione perché estendere il diritto di voto ai 16 anni significa dare peso politico e importanza alle istanze delle giovani generazioni e in particolare alla questione del cambiamento climatico chi confuta dovrà iniziare con l'assertion dovrà cioè riprendere l'argomento dell'avversario con un'affermazione usando lo stesso lessico per esempio voi sostenete che estendere il diritto di voto ai 16 anni significherebbe dare peso politico e importanza alle istanze delle giovani generazioni e in particolare alla questione del cambiamento climatico noi non siamo d'accordo su questo punto ora dovremo dimostrare la validità della nostra posizione con un ragionamento o reasoning che potrebbe essere questo noi non siamo d'accordo perché se è vero che la sensibilità dei giovani rispetto alla questione climatica è maggiore rispetto a quella di un sessantenne o ultra settantenne ciò non comporta di per sé che partiti e movimenti politici prendano in più seria considerazione la questione del clima solo perché al voto parteciperà una fetta più ampia della popolazione giovanile dopodiché dovremo presentare prove o evidenze a sostegno della nostra posizione per esempio in questo modo perché perché in primo luogo in un paese come il nostro dove si sono registrate altissime percentuali di astensionismo nelle ultime consultazioni elettorali il 40 per cento degli aventi diritto non è scontato che i sedicenni si recchino alle urne in secondo luogo come dimostrano i dati dell'ultimo censimento effettuato in italia nel 2019 la popolazione italiana invecchia molto rapidamente l'indice di vecchiaia è notevolmente aumentato dal 33,5 per cento del 1951 a quasi il 180 per cento del 2019 si tratta di un fenomeno in crescita che nemmeno l'afflusso di giovani immigrati riesce ad arginare il che significa che a prescindere dalla partecipazione o meno dei sedicenni al voto i partiti politici continueranno ad avere più a cuore gli interessi delle fasce di popolazione tra i 40 e gli 80 anni la confutazione si conclude con il link back lo speaker dovrà ricollegarsi al cuore della confutazione spiegare perché questa mette a nudo la debolezza o ancor meglio l'inconsistenza della linea argomentativa della squadra avversaria per esempio pertanto è evidente come estendere il diritto di voto ai sedicenni non possa modificare in alcun modo le priorità all'ordine del giorno nell'agenda dei partiti politici e della classe dirigente che continuerà a perseguire quegli obiettivi che sono più in linea con i bisogni e con l'orientamento ideologico della maggioranza della popolazione e quindi degli elettori cioè degli adulti e degli anziani la confutazione è indubbiamente il compito più impegnativo per i debaters perché presuppone che ambe due le parti ascoltino molto attentamente i rispettivi discorsi prendano appunti e sulla base di questi costruiscano al momento l'intervento di confutazione